E credo che avere anche un riferimento delle nostre forze dell'ordine sia una cosa assolutamente positiva e piacevole per tutti noi. Bellissimo, ci sentiamo a casa, ci sentiamo a casa. Bravissimi, fanno bene il loro mestiere, quindi sono in gambissimo. Anche quest'anno piacevole sorpresa per gli italiani appassionati dell'Octoberfest. Davvero tanti, almeno 250.000 nelle tre settimane della festa della birra su un totale di 6 milioni di visitatori. Ad assisterli e intervenire in caso di bisogno, assieme ai colleghi tedeschi, anche una pattuglia della Polizia di Stato. Cinque agenti della questura di Bolzano, una collaborazione consolidata dal 2005. Il nostro compito primario è senz'altro quello di superare eventuali ostacoli linguistici. Per questo troviamo sempre un riscontro positivo quando noi interveniamo e troviamo il nostro connazionale che vede la sua polizia e può rivolgersi alla sua polizia nella sua lingua. In effetti, tra fiumi di birra e qualche avance di troppo, capita spesso che l'atmosfera dell'Octoberfest diventi pesante. I poliziotti tedeschi ed italiani devono fare da pacere ed usare una pazienza infinita, ma in case estremi anche le maniere forti.